I'm here from the Embassy of Canada and we're here at the Lewis Career Day to share the beauty of Canada and to promote study, work, travel opportunities in Canada for Lewis students. Sono Cristiano De Vergori, studente di Politics, Philosophy and Economics al secondo anno. Faccio parte oggi dello staff organizzativo per il Career Day dedicato alle organizzazioni internazionali. Ritengo che questa sia un'opportunità imperdibile per tutti gli studenti, in modo particolare per gli studenti di scienze politiche, per potersi confrontare formalmente con i recruiter e comprendere qual è il modo migliore per avvicinarsi al mondo del lavoro. Il FAI è un'organizzazione che è attiva da più di 40 anni in Italia ed ha come principale obiettivo la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro paese. Chi lavora al FAI è una persona innamorata dell'Italia, che ha a cuore il futuro del proprio paese e vuole fare qualcosa per renderlo migliore e per valorizzare l'enorme patrimonio che il FAI ha a disposizione. Il Comitato Italiano per l'UNICEF chiede delle skills sia di tipo tecnico, quindi la conoscenza per esempio della lingua inglese per noi è assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda le persone giovani, come i ragazzi neolaureati, chiaramente ci affidiamo a quelle che sono le competenze trasversali, quindi sicuramente la flessibilità, la capacità di riconoscere gli elementi di un contesto complesso come quello dell'UNICEF e la capacità soprattutto di lavorare in gruppo. L'UNICEF come sapete è un'associazione internazionale che è presente in più di 100 paesi e a livello internazionale abbiamo 5 milioni di soci. In tutti i 100 paesi dove è presente coinvolge sia volontari sia persone di staff con delle professionalità definite, quindi invitiamo i giovani a entrare in contatto, cercare le relazioni perché poi con quelle si costruisce il futuro. Penso inoltre che sia estremamente formativo non solo professionalmente ma anche personalmente approfittare di questa occasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.